della Fuji Expo dal Tour del Principe e nel frattempo il nostro boy buonasera, ci ha accompagnato qui questa sera Federica Mancini grazie, noi ci ritroviamo tra un pochissimo tra pochissimo Federica, buonasera buonasera a tutti volto noto televisivo ti vediamo spesso sulle reti appunto che ho prima citato Teleroma 2 e Teletibur grazie di essere qui grazie a te per avermi invitata ma è un piacere e un onore anzi, ripeto grazie a voi per essere presenti per le riprese che so che andranno in onda praticamente allora, andranno in onda da domani lunedì 20 fino a domenica 26 sulla rete Teleroma 2 e Teletibur sul canale 83 nel TG Teletibur alle 20.15 e alle 22.55 benissimo allora, tutti pronti con il televisore domani a queste ore che te hai citato per vedere le riprese di questa sera tutti sintonizzati mi raccomando grazie Federica grazie a voi e buon proseguimento di serata grazie mille bellissima e bravissima come sempre grazie grazie Matteo ciao 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 Federica Mancini